Siamo nel cuore del giardino, questa è la serra dove produciamo le piante che poi coltiviamo nel corso dell'anno nel giardino. È una serra dove coltiviamo da seme, da talea, tante piccole piante che coltiviamo con molta attenzione. A partire da delle piante selvatiche molto comuni, come può essere un miosotis, che non ti scordare di me, come tipico dei prati, che noi cerchiamo di coltivare anche in diverse forme, come queste rosa e bianche, che sono delle mutazioni naturali di piante così comuni e così belle da vedere nei giardini, oltre che nei prati. Non sono solo fiori ornamentali, ma ci sono anche delle piante aromatiche, che noi moltiplichiamo per talea. Qui ad esempio abbiamo una serie di rosmarini, che abbiamo messo a radicare quest'autunno, e adesso si stanno facendo le piccole radichette, infatti sono ben radicati nel terreno, in un vaso misto di sabbia e terriccio, che è quello che favorisce più facilmente la produzione di talea. Abbiamo poi anche dei piccoli ortaggi, qua ci sono dei cardi, abbiamo delle carote, abbiamo anche dei cavoli, che sono tutte le piante che produciamo per sicurezza, per averle sempre pronte nel corso dell'anno. Ci sono poi anche delle piante rare, che sono talmente rare, che non so se posso farvele vedere, perché altrimenti poi rischiamo di avere le folle che cercano le piante rare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.